Eh eh eh, fregati! Avevo accennato che avrei chiacchierato di due matassine, invece no, chiacchiererò di quattro materiali. Tre li vedete? Due li vedete sotto forma di matassine, uno lo vedete sotto forma di sciallina o sciarpetta e non la chiamo Bactus, anche se è piccola dalle forme contenute non è un Bactus perché non nasce, non nacque da quell'ispirazione, è proprio un mio progetto, ma non è parente se non per la forma contenuta. E parleremo anche del Rock Island Show, a me non piace la lingua inglese, come si fa? Come si fa? Allora, allora, mi sono presa un cazziatone perché nella mia giocosa ironia, non è che prenda a pizze le persone, eh? Nei miei vocaletti, spero che nessuno si urti, o poi del resto non si può risultare simpatico a chiunque, meno male, eh? Insomma, sì, in effetti, si può andare d'accordo però, ma non pensavo che avrei fatto venire nervosa qualcuno perché cerco di stimolare le persone ad utilizzare qualsivoglia cosa di manga senza vederlo come un nemico che gira per casa, magari non fatelo girare, io ho il gatto che mi ruba, ha ricominciato a rubarmi i gomitoli, ma se arriva proprio a pescare con le unghiette, eh? Se arriva a pescare con la zampetta ad uncino e me li tira fuori da dove gli... Devo proprio nascondere, gli oggetti sferici, la nose adesso, sono tornati di moda per l'oreste. Allora, è vero, io faccio collezione di filati, ma nel senso che mi cerco di proteggere alcuni filati che entrano in contatto con me, sono loro a volte che mi vengono incontro, perché? Perché parte del mio piacere, della mia vita artistica, e beh, allora, è semplici obbligate. Si capisce l'ironia, vero? Sì, non tutti, è una brutta questione quando si capisce l'ironia. Allora, fa parte della mia vita artistica quella di narrazione, che in parte viene anche chiamata narrazione tessile, quella di sensibilizzare al piacere, non conoscenza tecnica e basta, ma al piacere di utilizzare i filati. Magari, come è capitato ad Anna in terrazza, si viene così in possesso, grazie a un'eredità conservata nel tempo, tanti gomitoli nuovi o usati, da parte di nonne, zie, amiche, vicini di casa, ricordo che a me è arrivata una borsata, ma di quelle grosse, di lane disfatte o avanzi di lane, e da parte di una signora che ho conosciuto durante la festa di complanno e questa signora non c'è più, ho la sua fotografia con il mio comò. È stato un bell'atto quello di farmelo avere, perché è bello, mi è piaciuta questa cosa. Allora, non è che spingo tutte le persone a diventare, a fare quello che faccio io, nel senso con il mio approccio, capisco bene che la mia è una vocazione, è una passione, è una propensione, è ovvio che non voglia spingere, cioè non si intuisce questo, vero, aiutatemi che non voglia spingere le persone a fare acquisti di cose che a loro non interessano e riporle da parte, non spingo all'acquisto di pancia, anzi, tutt'altro, cerco di, è certo che questa è una cosa difficile da fare a distanza, ma cerco di aiutare le persone a sensibilizzare la vista, purtroppo adesso solo di vista possiamo parlare, ma il tatto è importante, se vi trovate in giro, toccate, confrontate, cercate di ricordare quello che avete già lavorato e alle sensazioni che vi ha lasciato, anche mentre facevate campionature, avrete fatto delle campionature e poi magari scelto di approcciare quel filato in altra maniera, stiamo scacce, sono in pigiama, sono in pigiama, allora, sono in pigiama, vedete, ho le causette da letto e, lo so, non dovrei portarle qua, ho anche un buco nel pantalone, ma quello è un morso di minù, eh, minù mi prendeva mozzichi, tempo fa, adesso ho ricominciato un po', quando sente il gatto che litiga fuori o gatti che smiagolano, lei se ne prende con me perché non corro a difendere Oreste, magari Oreste è in casa che dorme, sono altri gatti, ho il pigiomino, sono seduta per terra davanti al balconcino della mia, che si trova nella mia stanza, fa l'isteso in altra lavatrice, ce l'ho amarezzato un po' così, non so come sarà oggi. E quindi torniamo, quando parlo di avanzi, cerco con ironia giocosa, ma anche serietà perché, ecco, vediamole sempre come delle opportunità, magari, ovvio, se sono tante cose, non corrisponderanno tutte insieme a quel dato progetto, ma apprendendo la costruzione di alcune forme e ragionandoci su, ragionando sulla natura dei filati, per natura intendo proprio le fibre che lo compongono, gli spessori, i colore, i colori, il colore, possiamo crearci autonomamente qualcosa di gusto, qualcosa che sarà sicuramente unico e che magari ci darà anche simolo per approfondire qualcosa, per proseguire con una tecnica, per inserirne un'altra, ma bisogna ragionare sulla natura dei filati e anche considerare che benvenga anche il desiderio di assaggiare qualcosa acquistando grandi quantitativi. tante delle mie cose sono nate proprio con un vomitolo o da una matassa, perché mi andava di fare quell'esperienza e non ci ho fatto delle presine, ho cercato di comunque, lo stimolo è quello di comunque realizzare qualcosa di mettibile, di indossabile, di fruibile, consenso. Ecco, è per questo che quando parlo di avanzi e di disposizione degli stessi in un pezzo che mischia anche qualità differenti, bisogna capire se è il caso in quel momento con quel tipo di capo che vorremmo creare, grazie al quantitativo di filati che abbiamo di utilizzare quello piuttosto che quell'altro e non necessariamente tutto insieme perché si abbina come colore. Questo è un po', è il mio intento, è il mio gioco, è il mio divertimento. Poi come vivo io da creativa? Ovvio che non lo posso, non lo voglio imporre, me ne guardo bene perché ognuno, ogni creativo ha un suo mondo e ci sta bene e cerco di dare alto, non è che cerco adepti per il mio modo, cerco di supportare, di sostenere le persone che non sopportano di avere giacenze oppure hanno solo quelle e non vogliono o non possono fare altri acquisti e rivolta ai commercianti, commercianti intendo i piccoli negozianti, quelli dove non si lavora a maglia, dove hanno poche conoscenze di tecniche, dove non vanno su Ravel e scaricarsi i pattern, dove non vanno nel sito della Drops e dove possono scaricarsi progetti, dove non hanno l'occhio o l'abitudine nel mischiare i filati, di crearsi opportunità di vendita creando dei pattern, ecco invece cerco proprio di dare anche quel tipo lì di stimolo perché è un problema quello dell'avanzo che non abbiamo solo noi a casa, ecco io non mi propongo come hobbista, io non sono un hobbista va bene? Io non sono un hobbista e non snobbo gli hobbisti, anzi anzi mi sono cresciuta generazioni di bambini cercando di stimolare in loro il piacere del fare che poi nel tempo poteva trasformarsi anche adesso con me, cioè all'epoca con me ricamarono cappelli di paglia, magari a contatto con la materia, avendo ascoltato certe nozioni, certe caratteristiche, certe nozioni le hanno fatte proprie e magari sono diventati dei bravi cappellai, magari ecco che ne so sono diventati falegnami perché abbiamo studiato come riporre le cose, come ordinare gli attrezzi, magari sono messi a far bottoni, ecco non è fate quello che faccio io, ma cerco di comunicare il piacere del fare perché il piacere del fare viene proprio in soccorso in tanti momenti della vita, poi magari qualcuno non si affida ai miei stessi rimedi, io per sopportare due settimane di ricovero mi sono messa a ricamare appunto croce, come sono adesso non per terra, gambe ingrociate sul letto, tutto sparso sul mio letto ed ecco lì che mi sono fatta trascorrere quelle due odiose settimane quando a bottega c'era bisogno di me e avevo una figliolina a casa, nel 95 mia figlia aveva 8 anni, capita a me, ecco no ne aveva 7, anzi aveva 7 anni mia figlia. Allora, torniamo a bomba, eccoci qua, allora, in uno dei vecchi negozi di Viterbo, quello che al momento è chiuso, c'è un bigliettino col telefono per informazioni, ma tacci loro, c'erano delle cose che volevo vedere, ma come si fa a chiamare? Vabbè, scovai queste due matasse, queste due matasse io le ho tenute, perché mi servono i filati? Perché insieme valutiamo, paragoniamo, compariamo i filati e i manufatti che fanno parte del mio bagaglio, fanno proprio parte del mio kit di dialogo, di confronto, di corsi, vogliamo parlare di corsi, ecco io ho una mia filosofia nell'approcciare le tecniche, dove do più spazio alla natura dei filati e grazie a quelli andiamo a parlare delle tecniche e delle costruzioni, ovvio che io conosco fino adesso, tante ne ho ancora da conoscere, le conoscerò se mi farà piacere, quando mi farà piacere e grazie al filato che mi stimolerà quella voglia, è difficile che sia una tecnica, che sia un motivo, che sia un qualcosa di diverso dal filato che mi porti alla costruzione, parto dai filati e arrivo alle costruzioni, per quanto riguarda la tessitura poi è altro, diciamo, che mi porta a tessere, non solo il piacere e il gusto di combinare colori e filati, faccio una bella sciarpa, ho abbastanza esperienza, ho un mio gusto che esprimo, poi può essere condivisibile o meno e non ho bisogno di ispirazione, magari solo di tempo, poi artisticamente invece certe cose, non mi metto a fare le cose strane perché fa figo, no, non è la stranezza per me, non identifico l'arte nella stranezza, nella capriola carpiata, no, mi serve uno stimolo, mi serve un'emozione, mi serve qualcosa da dire, da raccontare e poi vado alla ricerca di tutto quello che mi può venire in aiuto, spesso è già intorno a me e grazie a quello che ho intorno, poi parte il dialogo tessile, parte l'espressione tessile, tessile intesa come tessuto, proprio, e perché appunto se li ho intorno a me vuol dire che quei colori e quei materiali già mi hanno toccata da qualche parte nel profondo, allora, eccoci qua, vi lascio un'infinità di link, vi lascio un link, vi lascio dei link, poi andateveli a vedere che hanno a che fare con l'argomento, c'è anche il link ad un negozio online che io non conosco, non mi sono mai rivolta, ma cercando Tasmania mi è sbucata fuori una serie di promozioni di questo negozio online, quindi se vi interessa, se a qualcuno interessa buttateci in occhio, ci sono degli sconti, ci sono dei filati che io non sceglierei manco per scherzo, ma altri ho visto che sono delle cose interessanti, e così parlerò anche delle promozioni. Voglio parlare della Tasmania, allora stopo qui, voglio parlare della Tasmania, voglio parlare di Rowan, vedete qua, voglio parlare del Rock Island e voglio parlare di tutti questi tre argomenti messi insieme, quindi ricomincio un vocaletto e proseguiamo, preferisco stopparli.